Non c'è stato l'atteso incontro con il presidente Mattarella per chiedere un intervento urgente per bloccare l'ipotesi di scomparsa del loro corpo ultracentenario. Sono rimasti a bocca asciutta i forestali che durante l'inaugurazione del Palazzo di Giustizia hanno manifestato con un sit-in all'Aquila per ribadire la contrarietà al progetto di inglobamento con l'arma dei carabinieri. I forestali nel colorato sit-in hanno richiamato l'attenzione del capo dello Stato reggendo ciascuno una lettera che componeva lo slogan civili per natura, richiamando proprio l'ipotesi di militarizzazione del corpo prevista dal decreto sulla pubblica amministrazione del ministro Marianna Madia. All'uscita dal palazzaccio il presidente ha salutato i manifestanti dall'interno dell'autopresidenziale, mentre il prefetto Lecci ha però garantito che si farà portavoce delle rivendicazioni con il presidente. Chiedendogli di intercedere con il premier Matteo Renzi affinché si convochi un incontro a Palazzo Chigi. Ci aspettiamo quello che abbiamo già riferito la settimana scorsa al signor prefetto dell'Aquila, incaricato direttamente dal segretariato del Quirinale, dove abbiamo sollevato quelle che sono le nostre preoccupazioni rispetto a questo progetto di riforma. Noi vogliamo in qualche modo che venga riorganizzato il corpo forestale dello Stato, così come la legge Madia prevede. Prima ancora che il governo preveda che noi possiamo essere eventualmente assorbiti ad altre forze di polizia, quindi evitando lo spezzettamento, evitando che tutte le professionalità e tutto ciò che abbiamo acquisito nel tempo, anche rispetto alla funzione svolta fino ad oggi, possa essere in qualche modo disciolta in maniera poco corretta.